Oggi signori voglio parlare insieme a voi di una notizia che ha rilasciato il mattino. Parliamo di calciomercato, più precisamente calciomercato di gennaio e parliamo di un calciatore che se dovesse effettivamente andare via a gennaio scatenerebbe in città dei caroselli che non sarebbero minimamente paragonabili a quelli del terzo scudetto, ne sono convinto. Chi è il calciatore in questione? Via con la sigla e scopriamolo. Allora ragazzi, innanzitutto buon sabato a tutti e buon weekend in generale a tutti quanti. Benvenuti in questo nuovo video, andiamo a parlare del calciatore in questione. Allora, chi sono i calciatori che attualmente a Napoli non sono proprio ben visti dalla piazza? Sono diciamo tre in particolare. Alex Meret, che tra parentesi dicono che non ci sarà nemmeno a Empoli perché questo infortunio non ha totalmente recuperato. Poi abbiamo Politano, che però, fatemelo dire, sta facendo un lavoro importante in queste partite con Conte. E poi abbiamo Juan Jesus. Ecco, parliamo di Juan Jesus. Il mattino ha praticamente detto che Juan Jesus avrebbe sfruttato la storia degli AirTag e della macchina di qualche giorno fa, che vi ricorderete benissimo. L'ha sfruttata per dare un'assista alla società per dire io a gennaio voglio andarmene. La frase, no, la frase diciamo che ha fatto scatenare questa ipotesi è io a Napoli non mi sento più sicuro. Quindi hanno collegato questa cosa con il a gennaio vuole andare via e non vuole aspettare giugno. Ovviamente poi si è fatto anche il nome dell'ipotetico sostituto. Andiamo per gradi. Ci sono varie cose che non mi fanno pensare a un addio di Juan Jesus a gennaio. Innanzitutto il discorso mercato. Ragazzi, Juan Jesus non ha mercato. E lo abbiamo detto un sacco di volte. Quest'estate sappiamo benissimo che è stato sacrificato Nathan perché Juan Jesus appunto non trovava mercato. E quindi la mia domanda è se non ha trovato mercato quest'estate lo troverà a gennaio specialmente quando entrerà nei fatidici ultimi sei mesi di contratto. Perché io vi ricordo che Juan Jesus ci ha incontrato in scadenza a giugno 2025 quindi a gennaio entrerà nella fase in cui si può accordare con un precontratto e quindi andare via a zero. E io non penso proprio quindi che qualcuno caccerà dei soldi a gennaio per prendere un cacciatore che posso tranquillamente prendere tra sei mesi a zero. Potrei chiudere il video già qua. Però non lo faccio e quindi andiamo avanti. La seconda cosa che non mi convince di questa storia è il sostituto. Il nome che è stato fatto per sostituire Juan Jesus a gennaio ragazzi è quello di Jaka Biol. Non so sinceramente la pronuncia effettiva però il centrale sloveno dell'Udinese classe 1999. Non mi convince non perché lo reputo scarso anzi per me Biol è un difensore di tutto rispetto e se non sbaglio in estate se ne ha parlato anche dell'Inter. Secondo me è il classico difensore contiano. Giocatore altissimo dal fisico imponente su duelli aerei è pericoloso. È un giocatore che fa sentire la sua presenza nei duelli nei contrasti. E' bravo anche nell'impostazione. Lui di base gioca centrale nella difesa a tre ma può giocare anche a braccetto destro. Quindi di base parliamo di un giocatore a mio avviso buono e che può ancora crescere perché comunque ha 25 anni. Qual è però il punto? Il L'Udinese te lo dà via a gennaio? Abbiamo il precedente però di Noia in Perez che ci fa pensare. Sì potrebbe partire a gennaio. Io però faccio un discorso un po' più ampio. Dico l'Udinese quest'anno è partita molto bene. E' praticamente nelle zone alte della classifica. Mettiamo caso che questo andamento vada avanti. E a gennaio l'Udinese che ne so è settima. Ha un paio di punti dall'Europa League. Ha una distanza non così siderale dal quarto posto. Sto ipotizzando. Secondo voi l'Udinese smantela la squadra perché sa che quest'anno ha la salvezza in tasca? O proverà a inseguire un posto in Europa? Secondo me proverà a inseguire un posto in Europa. E quindi per me non andrà a smantelare la squadra. E Biol ragazzi è una colonna portante dell'Udinese. Quindi per me tutti i discorsi relativi al trasferimento slitterebbero a giugno-luio. Potrebbe magari succedere una cosa stile Rachmani. Quindi compri Biol a gennaio. Ma lo lasci in presido fino a giugno. E poi arriva a Napoli in estate. Questo è una cosa che posso pensare. Che è molto diciamo verosimile. Ma io sinceramente non penso che verrà preso a gennaio. Anche per i ragazzi per una questione gerarchica. In questo momento i difensori centrali a Napoli quali sono? Sono Buongiorno, Rachmani, Rafa Marin e Juan Jesus. Di Lorenzo non lo considero perché parlo di centrali puri. Quali sono le gerarchie in questo momento? Vabbè, Buongiorno è il primo. Poi abbiamo Rachmani che è il secondo. Poi attualmente come terzo nelle gerarchie è Juan Jesus. Ok? Perché lo sappiamo Rafa Marin è un giovane che deve ancora crescere. Quindi al momento Rafa Marin diciamo che è ultimo nelle gerarchie. Però Rafa Marin è stato preso con l'obiettivo un domani di diventare un titolare. È un acquisto in ottica prospettica. Se tu vai a prendere Biol, che secondo me è un giocatore più pronto rispetto a Rafa Marin, vai secondo me un po' a scombustolare questa gerarchia. Tutto questo però se giochiamo con la difesa 4. E qui apro, anzi riapro il discorso della difesa 3 ragazzi. Perché io sto sentendo troppe voci che vanno verso un ritorno alla difesa 3. Perché Biol, come ho detto prima, centrale alla difesa 3 ma anche braccetto destro e in realtà può giocare anche mediano. Proprio perché sa impostare. Quindi se pensiamo alla difesa 3, no. Biol al centro. Buongiorno a braccetto sinistro. E braccetto destro si alternano Rachmani e Rafa Marin. Quindi se parliamo di difesa 3, Rafa Marin può giocare insieme a Biol e a Buongiorno. In quel caso le gerarchie si modificherebbero ma non tanto rispetto a un discorso in ottica difesa 4. Poi aggiungiamoci che negli scorsi giorni si è parlato di Chachua. Si è parlato anche di questo Niccolo Bertola dello Spezia. Ma secondo me quello più un nome che prendi, giri in presido un paio di anni sperando che cresca e poi magari lo tieni in prima squadra. O comunque approfitti di questa crescita per farci una plusvalenza. Ma non penso che venga preso per essere subito inserito in squadra. Quindi ultimamente si sta parlando molto di nomi che ti fanno pensare a un ritorno alla difesa 3. E questo è un discorso che affrontammo già qualche giorno fa. Sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto stiamo andando così bene con la difesa 4 perché tornerà alla difesa 3. È un discorso che capisco e che condivido anch'io. Cioè io sono dell'idea squadra che vince non si cambia. Quindi se si sta andando bene con la difesa 4 continuiamo con la difesa 4. Anche perché abbiamo discusso dei problemi che ritornerebbero col passaggio alla difesa 3. Però non lo so io ce l'ho questo tallo cioè secondo me Conte ce l'ha questa idea nella testa di ritornare alla difesa 3. Perché comunque noi se analizziamo la storia di Conte la colonna portante di Conte qual è stata sempre? La difesa 3 poi col centrocampo e l'attacco si è cambiato. Si ha fatto la difesa 4 col Siena con l'Atalanta col Bari ma parliamo di Siena Atalanta e Bari. Quindi proprio gli inizi della sua carriera. Ma se guardiamo l'Inter, se guardiamo il Chelsea, se guardiamo la Juventus, difesa 3. Quella è stata proprio, è stato il suo mantra, è stato il suo marchio di fabbrica. Quindi io sinceramente un ritorno alla difesa 3 non lo escludo. Però allo stesso tempo dico One Jesus al gennaio non può andare via perché secondo me è impossibile. E di conseguenza vedo impossibile un arrivo di B-All. Ragazzi a gennaio puoi prendere calciatori che sono fuori da un progetto, che sono magari degli esuberi, te li prendi verso un prestito 6 mesi. Il colpo grosso, il colpo importante lo fai in estate. Come ad esempio Buongiorno. Biola lo puoi prendere in estate. Ma secondo me a gennaio non vai a prendere giocatori di quel calibro. E ripeto, se l'Udinese metti caso lotta per l'Europa quest'anno, io a maggior ragione dico, per me non muoveranno niente. Rimanderanno tutto a giugno. Mia personale idea. Magari ditemi la vostra nei commenti. Detto questo, facciamo un attimo un recap delle nazionali, cioè dei giocatori nazionali. Perché oggi è il 12 ottobre, si sono giocate delle partite sia ieri che l'altro ieri. Quindi partiamo dall'Italia. Hanno giocato Buongiorno Di Lorenzo e Raspadori in Italia-Beggio. Partita che l'Italia diciamo ha un po' buttato con quell'espulsione di Pellegrini. Buongiorno non ha proprio giocato. Fatemi dire, meglio così, perché almeno ha un po' riposato. Anche se in realtà quest'anno questo discorso lascia un po' il tempo che trova, perché giochiamo una volta a settimana. Però riposare secondo me non fa mai male. Di Lorenzo invece ha giocato tutti i 90 minuti. Quindi sbavatura sul pareggio del 2-2 sul calcio d'angolo. Raspadori è entrato nel secondo tempo, ma è entrato in un momento della partita dove l'Italia avrà attaccato col contagocce. Quindi ha potuto fare poco o nulla. Ha giocato poi ieri lo Botka con la Slovacchia. La Slovacchia, se non sbaglio, ha pareggiato. Si, confermo. Pareggia 2-2 contro la Svezia. Mi sono dimenticato che in Italia-Belgio ha giocato anche in gong. Ha esordito con la nazionale belga. Chissà, magari quella partita contro il Palermo avrà fatto drizzare le antenne al CT del Belgio. È entrato nel secondo tempo, qualcosina ha fatto però niente di che. Poi ieri ha giocato anche Olivera con l'Uruguay. Partita di qualificazione per il Mondiale 2026 contro il Perù. E spoiler, l'Uruguay ha perso 1-0. Piccola parentesi, Olivera ha giocato soltanto il primo tempo. È uscito all'intervallo. Meglio così, almeno si è riposato 45 minuti. Ha giocato poi il Camerun di Anghissà. Sempre partite di qualificazione mondiali. Angola-Camerun finisce 1-1 e Anghissà gioca tutti 90 minuti. E poi ci abbiamo Rafa Marin che con la sua Spagna sta giocando le qualificazioni all'Europeo Under 21. Anzi, dovrei dire, sta vedendo gli altri giocare. Perché nella partita contro il Kazakistan Rafa Marin non è proprio entrato. Si è visto la partita dalla panchina. E io qui voglio aprire velocemente il momento polemica. Perché voglio fare polemica. Non era meglio restare a Napoli e allenarsi con Conte per cercare di scavalcare quella famosa gerarchia. E provare a magari a oleare i meccanismi, a migliorare un pochettino. Perché se andate in nazionale con la Spagna, non giochi. Io avrei sinceramente valutato diversamente. Magari poteva sfruttare questa pausa per allenarsi con Conte. E magari acquisire qualche nozione in più, migliorare, non lo so. Però sinceramente se tu vai in nazionale per poi fare la panchina, a sto punto restavi a Napoli sinceramente. Vabbè, ognuno fa le scelte che meglio reputa. E poi finiori chiudiamo con il buon Kvara Schelia che ha giocato contro l'Ucraina. Purtroppo la Georgia ha perso 1-0. Tra l'altro la Georgia aveva anche rischiato il pareggio. Però in quell'azione Kvara era in fuorigioco. Quindi diciamo che ha inciso tra virgolette negativamente nella partita. Non ha fatto questa grande partita, c'è da dire. Però ha giocato come sempre seconda punta in questo 3-5-2. Seconda punta che poi si allargava sulla sinistra. Quindi ragazzi, questo è tutto per oggi. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis. E attivate poi la campanella. Detto questo, io vi auguro di nuovo un buon sabato. E in generale un buon weekend. Di base domani non dovremmo vederci. A meno la domenica. Vi lascio in pace. Detto questo, ciao a tutti quanti. E sempre e comunque forza Napoli.